Ciao a tutti, proseguiamo la serie dei grandi albi, i grandi classici dei comics. La Star Comics propose uno speciale Moon Knight a lire 7000, c'era ancora questa unità di misura monetaria, era 1991, supplemento all'uomo ragno, numero 64, 15 gennaio 1991, splendide le tavole di Bill Sinkiewicz. Iniziamo con questa fantastica jazz. Bill Sinkiewicz at his best ha pochi uguali, è un illustratore con veramente pochissimi uguali. Sfogliamo qualche altra pagina, a caso, non ha veramente niente da invidiare ai grandi Neil Adams, Howard Chaikin e altri grandi illustratori del settore. L'albo è splendido e presenta anche alcune cover degli albi contenuti all'interno. Qua Moon Knight contro Werewolf by Night, il personaggio comunque era stato introdotto a Moon Knight e torna con questa particolare interpretazione di Sinkiewicz. infatti anche in ultima di copertina. È un albo consigliatissimo a tutti gli appassionati, sia dell'illustrazione di alto livello che Sinkiewicz rappresenta, sia dei comics Marvel. top moinch ai testi, come nella fase classica di Moon Knight. Procuratevelo se non ce l'avete. E' chiaramente esame e il descriopo mi fa